Cominciano a cadere le noci ed io mi trovo qua al mio orto, è 8 ottobre 2020, ora 17.48. Il piacere, ecco capito, questi man mano, che maturano e cadono per terra. Allora, adesso sono pochi, dopo cascono con maggior abbondanza. Il piacere, sai qual è? Non raccogliere molte noci. Cioè, voglio dire, quando sono le primizie, le prime che cadono, è come cercare tartuchi. Allora mi metto a passeggiare così, passeggio e nel contempo guardo se come cercare tartuchi. A stesso tempo, mi passa il tempo, io non bevo un puma, mi passa il tempo, stare all'orto, andare in campagna. E guarda, guarda, così, 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 vediamo, vediamo di qua. Ecco la noce, la avete? Questa è una, la raccolgo. Guardiamo qui, piano piano, come il falco, un acuto osservatore. Ce ne stanno poco adesso, però non mi piace. Guardiamo qui, con la massima attenzione. Eccola qui in acqua, questo è in acqua. Poi, vediamo, guardiamo sempre, qua mi trovo vicino alla variante, è circa 30 metri. Guardiamo, con l'occhio aguto, ecco qua, vediamo un po'. Ecco qua l'ho presa in acqua, avete visto? Adesso ci sono anche quest'altra, vedi? L'ho presa, questa, c'è la buccia, e allora, pulite con la buccia, pulite con la buccia, eccola qua, uno, due, tre noci, vedi? E quindi si raccolgono, faccio così, uno, due e tre, vediamo, uno, due, tre, ecco qua, tre noci, ecco un'altra noce, vabbè. Vabbè, adesso faccio riportare, nonostante vengo domani con calma, questa, la vedi, questa, se la pulisci un po' così, eccola qui, vedi? Questa è anche buona, guardiamo un'altra luce, veramente io, ho letto a passeggiare, sto calmo, tranquillo, beato, lavoro nelle gambe, ci muoviamo fisicamente. E ecco qua, ci sono domani, le vengo a raccogliere, ma queste sono alberi di noce, stanno alla bellezza di 20 anni, sono cominciato a crescere, vedi? Sono veramente belli, bellissimo, uno è questo, giriamo qui, torno, torno, e ecco l'altra noce, ecco l'altra noce, quanto so? Ah, ci stanno le noce, ha tirato il vento ieri, ferma di mattina, vengo, guardiamo l'esterno qui, anche qui, e guardiamo il panorama, qui c'è questa va fa, si è fermato qualcuno, forse voleva raccogliere le noci, vabbè, stamese non è andata, vabbè. Vabbè, guarda, ogni tanto è qua qualcuno scende, ed entra a raccogliere, penso che non ci stanno i padroni, va bene. Guarda che magnifico panorama, incredibile, quello è Mondevelino, vedi Mondevelino? Ecco qua, Mondevelino, non ci sta la neve. Celano, ora è serenato, andiamo qui, bellissimo, ma ringiucolo qua, vedi, la foresta, il bosco e il sottobosco, nocciolo, noci, entro qua, è come una ginnastica, qua, qua si cammina, si piega la schiena, ci cosa, adesso faccio vedere come faccio a raccogliere le noci, va bene, e ci mettiamo di qua, vabbè, un giorno è vero, questa, questa aperta, non tosta, si vede, questa la tolgo, ma questa, è vero, questa è vero, questa è vero. ecco l'anato ma sembra che stanno qua la bella venga raccoglato a domenica raccoglato eccole qui nella stanuce speciale sono buona perché sono paesana soprattutto perché si trovano sul mio terreno quello che vende lo sbianchiscono qualcuno con la barracchina io non sbianchisco niente queste sono paesane